Per rinnovare le capotine e neoprene PVC sbiadite ci sono tanti prodotti, il rinnovo però è solo estetico. Le capotine però, quando invecchiano, oltre a sbiadire perdono elasticità e si rompono. Per rinnovare e mantenere sia l'aspetto estetico che l'elasticità perché non si rompono, c'è un solo prodotto, RS Black Traction. L'unico prodotto che viene assorbito, che non è unto al tatto anche quando continua a proteggere, è che ha la più lunga durata d'effetto perché viene assorbito dal materiale per rinnovare il colore originale e per mantenere l'elasticità ed evitare possibili rotture. RS ha anche un elevato potere sgrassante per pulire dallo sporco assorbito il neoprene dei gommoni. L'applicazione è facile e veloce e va effettuata a pennello sul materiale pulito e asciutto e qualche minuto dopo va uniformato con un panno per togliere quel poco di prodotto in eccesso che non verrebbe assorbito. Terminato l'assorbimento, la finitura è idrorepellente, termoresistente e resistente a detergenti aggressivi e solventi con la più lunga durata d'effetto che nessun altro prodotto può dimostrarti. Se la capottina è macchiata da agenti corrosivi, può utilizzare RS nero per comprire e uniformare al meglio possibile tutte le macchie indelebili creati dai corrosivi. Solo RS possiede queste caratteristiche uniche e brevettate che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Grazie per la visione! Grazie per la visione!